Ma come si fa? Come si fa? Cioè vedete un po' com'è la vita? Succede sempre il contrario e il capulizzo. Cosa solo volevo vincere a tutti i costi perché è una squadra che ogni anno ci rompe i maroni e perdiamo. Stasera volevo perdere. Stasera mi avessi fatto felice perdere per dare tre punti al Frosinone. Vinciamo la partita. Non solo vinciamo. 5 a 0. 5 a 0 vinciamo. No no sono amareggiato. Ci vuole un po' di dolce. Ci vuole un po' di dolce. Ci vuole un po' di dolce perché altrimenti qua non ci addolciamo. Una volta prendiamo l'acqua e il zucchero per il dolce. Non mi mangio direttamente la caprice. Il mio dolce preferito. Comunque, Frosinone 0, Inter 5. Voglio mandare un messaggio. Non a Zlatan perché ormai già l'abbiamo mandato a Zlatan. Voglio mandare un messaggio al mio amico che mi segue di Frosinone, Alessandro Di Ruzza. Mannaggia miseria. Io te l'ho detto per messaggio. Speravo che il Frosinone vincesse per la lotta salvezza. Invece niente. Però, però, tutto dipende ancora dal Frosinone. Avete due partite. Una a Monza, ma soprattutto l'ultima in casa con l'Udinese. L'ultima la devi vincere. Cioè, là non ci stanno né Sante né Maronne che la partita le va a vincere. La prossima con il Monza devi cercare quantomeno di fare il punticino. È chiaro che se vinci a Monza tanto meglio. Ma l'ultima con l'Udinese è lì. È uno spareggio. Perché ho scenduto voi. Ho scenduto l'Udinese. Poi, chiaramente, ci sta anche il Cagliari, l'Empoli. Cioè, la lotta salvezza è talmente intricata, talmente incasinata, che non si capisce. Però, se riesce a fare quattro punti nelle prossime due partite, questa sconfitta la dimenticherete ben presto. Chiaro, Alessandro? Ok. Detto ciò, allora, la cosa paradossale, sapete cos'è? Che stasera abbiamo vinto 5-0, però in tutta la stagione, mai come stasera in campionato, Sommer è stato così tanto impegnato. Cioè, stasera Sommer ha fatto 4-5 parate, alcune anche difficili. Cioè, il Frosinone ha creato nel primo tempo la traversa di Ghettira, il secondo tempo il salvataggio sulla linea di Carlos Augusto, quell'altro salvataggio di De Vrij. Cioè, tante occasioni che il Frosinone sta partito, cioè volendo, ha pure parigiato. Poi, chiaramente, dopo il 2-0 abbiamo dilagato, abbiamo fatto il terzo gol, dopodiché il Frosinone ha totalmente mollato, ha segnato Lautaro, mi fa piacere che torna gol, ha segnato anche Turam con un grande scavetto, però, insomma, quelli sono gol di fine partita che non contano niente. E niente, alla fine, alla fine, sapete cosa diranno gli altri interisti? Visto che gli abbiamo fatto il fegato, non so come, quest'anno, diranno così. Eh vabbè, stasera, se perdevamo, dicevano, vi state vendendo tutte le partite, state falsando la lotta a salvezza, come hanno detto col Sassuolo. Stasera, poiché abbiamo vinto, sapete cosa diranno? Eh, stasera avete vinto perché dovete continuare a fare il favore al Sassuolo, visto che il Sassuolo è invischiata nella lotta a salvezza, chiaramente, ma noi dobbiamo vincere per fare i piaceri del Sassuolo. Quindi, qualsiasi cosa avremmo fatto stasera non sarebbe andata bene. Semplicemente stasera abbiamo fatto il nostro dovere, che poi l'Inter manco ha giocato bene, perché se prendete la prestazione dei primi 60 minuti, il Frosinone meritava nettamente almeno il pareggio. Però stasera siamo stati molto cinici, siamo stati anche un po' fortunati perché Chedira ha spaccato l'incrocio della traversa, l'incrocio dei pali, e quindi abbiamo vinto questa partita. Cioè, che cosa vuoi dire? Però voglio fare qualche osservazione sui nostri giocatori. Chiaramente adesso Inzaghi sta facendo un po' di esperimenti. È arrivato il gol di Buchanan. Mi fa piacere. Però mi voglio soffermare, soprattutto, su Frattesi. Anche stasera ha fatto gol. Questo ragazzo ha una media reti impressionante. Praticamente ogni volta che gioca segna, ogni volta che gioca segna, sì. E quello che mi chiedo, in vista del prossimo anno, abbiamo già preso Zielinski, che ovviamente andrà a riempire lo slot di Klassen, no? L'anno prossimo avremo un centrocampo composto da Cialanoglu e Aslani, che sarà il vice di Cialanoglu. Poi avremo Barella, Mkhitaryan e le riserve saranno Zielinski e Frattesi. Ora capite bene che questo centrocampo in Italia non se lo può permettere nessuno. Cioè, nessuno si può permettere di avere Zielinski e Frattesi in panchina. Cioè, sono giocatori che in Italia giocherebbero in tutte le squadre. Però, visto il rendimento di Frattesi e visto che Frattesi ha comunque già fatto un anno di gavetta nell'Inter, l'anno prossimo di nuovo avrà così poco spazio? Punto interrogativo. Considerato che il prossimo anno Mkhitaryan avrà un anno in più e non penso che riuscirà a fare un'annata come quella di quest'anno. Cioè, Mkhitaryan quest'anno ha giocato tutte le partite ad un livello disumano. L'anno prossimo me lo auguro che faccia lo stesso. Però ha un anno in più e riuscirà a fare di nuovo 40 partite su questi livelli? Speriamo di sì. Ecco perché secondo me l'apporto di Davide il prossimo anno dovrà essere maggiore e non di poco. Cioè, non può continuare a fare la panchina. Anche perché Davide non è più giovanissimo. Cioè, nel senso, per me è giovane, è giocatore 19, 20, 21 anni. Ma Davide, se non sbaglio, ha 24, 25 anni. Quindi sta entrando nella fase piena della sua maturazione calcistica. E se non lo mettiamo titolare, ma non dico titolare, però una rotazione ragionata. Una volta gioca Barella e Mkhitaryan, la volta successiva Barella frattesi, la volta successiva ancora Mkhitaryan-Zielischi, perché anche lo stesso Zielischi non è che potrà fare tutte panchine. Cioè, è un giocatore importante, no? Lo zielo. Ce lo ricordiamo? Che ha vinto lo scudetto col Napoli da protagonista facendo una grande stagione. Quest'anno non conta perché il Napoli, purtroppo, quest'anno è un caso a parte. Cioè, tutti i giocatori sanno che devono andare via da Usimena, Zielischi. Quando sai che già devi andare via, non ci metti più l'anima, non ci metti più la passione. Ok? Quindi, cioè, secondo me, in vista del prossimo anno, questi sono comunque ragionamenti da fare. E Mkhitaryan-Zaghi sarà sicuramente all'altezza nel gestire questo tipo di situazioni. Chiaramente quest'anno è stato più facile. Perché? Perché Frattese era il suo primo anno, Buchenan, lo stesso lui era il suo primo anno, tanti giocatori, no? E al loro primo anno, poi le cose sono andate praticamente sempre bene. Ragazzi, in campionato abbiamo vinto quasi tutte le partite, quindi non è che qualcuno si poteva lamentare. Ecco, l'anno prossimo speriamo che continua ad andare così, però se qualcosa poi, se i risultati ad un certo punto non dovessero arrivare, insomma, potrebbe palesarsi qualche malcontento. Ma questi, ovviamente, sono ragionamenti da fare più in là. In attacco, onestamente, stiamo a posto. Cioè, stiamo a posto con i titolari. Lautaro Turam, Taremi già l'abbiamo preso, è chiaro che il quarto attaccante deve essere di un altro livello. Non può essere Arnautovic il quarto attaccante dell'Inter. Deve essere Gudmundson. Perché? Perché molti sbagliano. Molti pensano, ma il quarto attaccante non può essere Gudmundson perché poi non gioca mai. E no. E non è questo il ragionamento. Perché il quarto attaccante, metti caso che Lautaro Turam si fa male due mesi, corna facendo, il quarto attaccante diventa il terzo attaccante, ossia prima riserva. Che praticamente significa giocherà tutte le partite, almeno da subentrante. Quindi la quarta punta deve essere forte se vuoi competere anche al di fuori dell'Italia. Poi, se vuoi continuare a vincere in Italia, penso che anche questa squadra basti. Perché guardando le concorrenti, la Juventus è quella che è. Il Milan è quello che è. Cambierà allenatore, quindi inizieranno un nuovo progetto, così come la Juventus. Appunto, il Napoli, lo stiamo vedendo. L'Atalanta, diciamo anche se è forte, ma non ha quella mentalità, quella struttura per lottare per lo scudetto. Quindi io non vedo chi ci possa contendere lo scudetto nei prossimi anni, a patto che Milan e Juventus facciano veramente un lavorone. Perché queste due squadre, che sarebbero le nostre concorrenti, per lottare lo scudetto, devono lavorare tanto, tanto, tanto. Per cui il mio ragionamento di quarto attaccante all'altezza era in ottica Europa. Se in Europa vuoi competere, l'abbiamo visto con l'Atletico Madrid. A Madrid, fondamentalmente, perché abbiamo perso? Un po' perché abbiamo fatto degli errori, un po' per sfortuna l'errore di Pavard, ma un altro po' è perché non avevi attaccanti in panchina. Turam non c'era, chi ci stava in panchina? Soltanto Sanchez. E Sanchez è quello che è. Nemmeno ce la possiamo prendere con Sanchez. Ragazzi, è arrivato. È fine carriera. Non gli puoi chiedere più di quello che ha fatto. Anzi, ha già fatto tanto. Nel momento in cui vai a prendere Sanchez, devi sapere che non ci puoi contare più di tanto. Ecco perché il quarto attaccante il prossimo anno non può essere Ornautovic, che già non è un fulmine di guerra. Già non è un campione. In più, mettiamo il fatto che fisicamente spesso si fa male. Cioè, quest'anno ha avuto due infortuni non gravissimi, ma di medio livello. Quindi questi sono ragionamenti da fare in ottica prossimo anno. Poi ripeto, se si vuole continuare a vincere in Italia, penso che questo basti e avanzi. Gielischi, Taremi, bastano e avanzano per continuare a vincere. Io faccio il mio in bocca al lupo al Frosinone per la lotta salvezza. Spero vivamente che questa squadra possa salvarsi. Onestamente, vedendo l'inizio di campionato del Frosinone, non mi aspettavo di arrivare a maggio e vedere il Frosinone lì a lottare per la salvezza. Purtroppo è così e quindi il Frosinone deve fare veramente un grande sforzo nelle ultime due partite. Bisogna fare quattro punti in due partite. Non è facile, ma non è nemmeno difficilissimo. Il Frosinone ha il destino nelle proprie mani. Quindi, forza Ciociari, vi vogliamo ancora in Serie A. Detto ciò, Forza Inter, amala sempre. Ciao!